Azzinzio, 55, Bianco Barbosa, 7, Vicky Vincolera. Pronti, si parte, primo possesso di palla per la formazione del Brixen su Tirol. Le altre atlete sul rettangolo di gioco, è ancora un gol, sono 4 per il Cassano. Giro palla verso l'alame, ancora Brixen che va alla conclusione, trova il gol grazie alla conclusione della cubana Rosa Leal. Il giro palla da parte della formazione del Brixen su Tirol che si concretizza in seconda battuta grazie a... Il palleggio è sotto mano, basso sorprende la Prunster ed è il gol numero 10 per Cassano. Tacco, l'elevazione, il tiro, il gol, la palla spiega le mani a Prunster. Gol numero 20, finta di Acciana, il tiro Bertolino, palla respinta. Cassano è in finale, Cassano è la seconda finalista e giocherà contro Erice domani alle ore 13 per giocarsi la Coppa Italia. Grazie a tutti.